Napoli, capitale di una rete europea per l'acqua bene comune. Si è infatti svolta a Castel dell'Ovo un'assemblea a cui hanno partecipato attivisti da tutta Europa. Obiettivo dell'incontro è stato appunto quello di avviare il processo di costituzione di una rete europea che mette assieme tutti i movimenti, le associazioni, i sindacati e i gruppi sociali che lottano in Europa per l'acqua bene comune. Napoli è stata la prima città d'Italia ad aver trasformato la società di gestione del servizio idrico da SPA a ente di diritto pubblico. I movimenti si sono scambiati le rispettive esperienze e hanno ascoltato il caso Napoli dalla voce dell'assessore ai beni comuni Lucarelli e dal sindaco De Magistris che ha rilanciato l'appuntamento del forum del 28 gennaio tra amministratori e società civile e hanno scritto una proposta di carta verso il forum tematico di Marsiglia del 2012 per chiedere lo statuto europeo dei beni comuni e dell'acqua. Il documento dovrà ottenere un milione di firme in sette paesi dell'Unione Europea per poter essere trasformato da petizione indirettiva dalla Commissione Europea. Napoli è la prima città e per il momento l'unica che ha avviato il processo di ripubblicizzazione che ha trasformato l'area in SPA in ABC acqua bene comune Napoli e quindi oggi si radunano qui i comitati, i movimenti, il forum dei movimenti per l'acqua, ma una grande partecipazione anche di comitati che vengono da diverse parti d'Europa per creare quella che sarà appunto la carta europea per l'acqua bene comune e quello che so appunto l'idea è quella che sia ribattezzata proprio come la carta di Napoli, la carta di Napoli per una rinascita dei beni comuni, per porre nell'agenda politica dell'Unione Europea questo tema con grande forza e con grande vigore.